no parco ciao i miei pezzi di di mattone abbiamo d'arte come al solito cammina sopra forni crassantevole tutto il resto va bene i miei mattoni dove sono i miei mattoni ce li ho io dai basta va che mi sta uccidendo ragazzi i miei mattoncini no no i battori blocchi di mattoni io io benissimo devo prendere qualcos'altro allora che fate di bello oggi ragazzi siamo qui con veteranus darkin mister spartan c'è anche il re dai bro no eh si sono io sono io mi chiamo così su minecraft piove piove rovi sono spuntati i cartelli in casa eh me lo sto facendo di tutto per non leggere veteranus i la i i cosa cos'è i live you i live you mi vivi chi è che mi vive chi è che mi vive ma com'è sta cosa allora veteran di me portiamoci un po' di materiale la legna e devo cercarci casa vai vai io sono carico sono pieno c'ho più in e la lana ci manca ancora e la lana ci manca no io se volete tre pezzi ve l'ho portato uno ce ne basta ma gli altri ce li hai tu grazie vedo tutti e tre tanto non ci faccio nulla mi sto bagnando il pelo va bene voi avete visto ragazzi qualche posto dove c'è il mare? mare 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 non ci pare vicino a noi ci sta una sorta di fiume mare mezzo fiume mare una paludazza? no non è una paluda è tipo proprio un fiume beh dai Roby vieni vieni la ti facciamo vedere cosa hanno fatto ma te sto facendo di tutto per non venirci dai andiamo gli direi di prendere e partire e camminare di brutto per almeno 5 minuti piuttosto che stare con Darky ma no voglio andare a vedere le case di Darky ma andiamo dove sono? beh la casa mia è uno scabuzzio la casa mia è la più bella vai su vieni un infermiere con quel vestito con quell'armatura viene ragazzi stiamo andando dei barba grigia oh ahia sono già scantati ahia che stammena chi che mi ha dato un pugno? non lo so gioco di mano una pecora ahia una pecora dov'è? avrò mi neve tempeste tutte pecore picore picore no no maiale non lasciare i miei maiali c'è anche un montone edmontone benissimus finalmente via vuoi lasciare in giro i pezzi poi è sempre vino di maiale finalmente un po' di cibo per i miei lupi va a quanti? ecco basta guarda che ammazzuare il maiale ah finalmente vabbè ma qua c'è il mio allevamento una porcilaia si è qua casa tua? no no tra po' andiamo andiamo? 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 dai poveri maialini andiamo questa è la direzione giusta sì sì perché c'è tutti i miei maiali che tirano le cuoie? segui tanto senti senti come oink vieni qua vieni qua mi state seguendo? sì da lontano perché ti confondi con lo sfondo ah sei tutto candido ma no sono ferroso sembri bianco sembri un infermiere bianco nata e dai ci siamo anche sì è stata speciale natale cosa mi regali per natale ferri? un treno di botte ahahahahah ci siamo? ma quante giornate piove neve e allora eh qua c'è maltempo eh qua si è arrivato ci siamo vabbè veteran se c'è un bel posto con un laghetto un fiume va anche bene eh ma qua sono su delle pozze ecco si vede a lontananza miagato da qui sopra la moneta chi è che sta sparando? eccolo lì è uno scheletro qua c'è un lupo il lupo degli alberi eccolo cavolo non c'ho l'osso per il cagnolino ne vuoi uno ne ho sette si si grazie grazie vieni vediamo se riesco a conquistarmi un cagnolino ne vogliono altri tre vieni vieni glielo do porco beh no l'ho menato scusa non volevo menarti adesso ti dico no sei incazzato no stai buono stai buono ma questo è arrabbiato questo davanti a me questo davanti a me questo davanti a me è arrabbiato nero anche se c'è qualche rossi è sporco di sangue mi sei incamolato dai crepa crepa dai vassa ma dai gli ho dato l'osso ma gli ho dato in testa non ce n'è altri andiamo? no andiamo e vabbè camsar style comodo più comodo ma scusa ma tutta sta fretta non la capisco dai aspetta fermati ah finalmente ti riconosco ahahah arrotati 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 ah ecco la casa di di uno di questi eroi è un ender è un ender è un ender un ender l'ender deve morire dov'è? eh ma che prende danno con l'acqua quindi quando piove schiatta eccoci qua allora questo è il mio sgabuzzino e chi è che c'è là in alto? io ecco fatto bene bravo questo è il mio sgabuzzino ragazzi senza tetto guarda che non c'è il tetto eh ahahahahah dai stai fermo ce l'ho finito io il tetto quindi diamo su alla pagoda cobi alla pagoda ci stavano le scale e le danno ah che carino questa è allora questa qui è la riproduzione in minecraft dei 7000 scalini dei barbà grigia mmm ma io mi chiedo io ho fatto 4 puntate da 10-15 minuti l'una si in questa serie no? si cioè e tu quanto cacchio ci hai passato? guarda qua che l'han fatto bello ho fatto ha fatto giusto bravo prendo dal grano ah così proprio aspetta io invece faccio come dark green guardo nei bauli eccole qua eh ma non c'è niente già controllato sopra c'è un diamante se vuoi ecco qua ti ripianto un po' di cose così posso farmi il mio campicello bello guarda qua che hanno fatto anche la fontanella no questa è la preveratrice per le mucche e le mucche dove sono? ci sei tu dentro adesso ti serve la sabbia lì sotto raptor per esempio la cannola a zucchero ti serve la sabbia no basta anche la terra basta che sia una fonte d'acqua vicino e guarda quanta bella gente che c'era in fondo vabbè è bellino dai tutti a casa di guerriero va a fare un festino va bene ragazzi andiamo a cercarci una casa zoom pe zoom pe zoom pe zoom pe zoom veterano io andrei a cercarci una casa da queste parti qua dai stiamo vicini così facciamo il villaggio eh si però io qua ho quasi finito la cibaria varia io ho cotolette e roba da cucinare io ne ho una di cotolette e basta ninja iuuu va bene andiamo ho visto un posto che mi piace la sopra una pozza d'acqua con un laghetto con la sabbia dove? mhm guardo la minimappa vedo solo vedo solo piogge vanno a dire che ci mettiamo sul fiume o ci mettiamo vedo un po' d'acqua ci vuole dove ce la portiamo o sul lago a me piaceva il lago e il mare cavolo ma perchè fate le scala che c'è l'ascesa rapida lì l'ascesa si si se prendo l'ascesa salgo giusto va bene ragazzi noi ci avventuriamo a cercare un posto dove far casa non sono troppo distante da voi anch'io dove sei andato? dove sei andato? ecco va bene allora ci separiamo in due gruppi ah io vengo un po' voi ragazzi benissimo noi siamo con prezzemolo a dopo e anche con finocchio a dopo a dopo ciao eccoci qua benissimo ah se io sono prezzemolo te sei finocchio enderman enderman ah si si me lo devo ricordare la prossima volta e mi chiedi qualcosa tipo? ah sotto l'albero si sta bene che carino tranquillo tagliamo? eh toh zombie zombie allora facciamo già un po' di legna per strada ah 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 fermo aia no lo sto colpendo con l'osso ho sbagliato ninja ninja grazie 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 a darkin buttiamo giù un po' di montagna di qui e facciamo non ammazza le mucche così le duplichi non sto ammazzando le mucche sto ammazzando l'otto zombie Roby si vuoi un regalino? si grazie che regalino vuoi? ehm che stai zitto per un'ora eh no questo è difficile va bene allora e anche l'entrata in miniera qualcosa ah preciso allora darkin fai un bel regalino un bel allevamento di vucche anzi 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 ragazzi venite un po' avanti che ancora meglio aspetta c'è una spiana c'è una proprio eh c'è anche un ragnaccio però dove sei viterano? aia mi sta ammazzando ragazzi mi sta ammazzando venite avanti seguite il film si 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 molto più bello hai ragione si ma mi stanno ammazzando ragazzi sto morendo se muoio adesso adesso non posso perchè faccio il rispondità ciao fight back ho bisogno di 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 mangiare stai laggando? si si io no tu tu stai laggando? no no sto laggando si 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 vedo tutto brillo perfettamente avete qualcosa da no? sono a posto cibo quindi mettiamola in fondo io voglio Roby che devo dargli il regalino e vieni qua dai si 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 questo è un bel posto per per piantarci casa mi piace mi piace mi piace ma Roby lo senti la carta eh? allora Roby qua c'è un regalino per te vieni 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 eh ma scusa sono di qua eh scusa ma te continuiamo a muoverti ho detto voglio mettere casa qui aspetta qui guarda ci sono i fosti qua che storia eh si guarda qua to occhio vieni qua si dimmi allora un arco un arco incantato? no cosa che stai facendo? arco a frecce grazie che gentile e se ne prendi l'arco però guarda per prenderlo devo mettere giù degli oggetti grazie ci siamo puoi non dire che non penso mai a te eh? no in questi ultimi secondi hai pensato fortemente a me sì ma non può più povere continuamente ah io pianto la canna da zucro dai stiamo qua eh c'è un problema vedete? cos'è? non c'è la porta al campo per spostare le bestie eeeh datti da fare le bestie le prendiamo alla vecchia maniera dai allora che che fa la casa? e ci sono anche diversi ingressi alle miniere benissimo eh già non è male come posto ma sapete che faccio? io mi rifugio oh c'è anche del gran carbone mi rifugio in miniera ragazzi questa è la nostra miniera guardatela qua io mi rifugierai in miniera finchè non facciamo veramente finire questa pioggia che non ne posso più e venite qua qua così mi vedete? no non ti vedo perchè mi sono rifugiato in un altro punto ah aspetta che avete messo waypoint? si sto facendo uno scrigno per mollare la prima roba va? anch'io waypoint? vai su sei bloccato ma non posso farlo waypoint ma c'hai la mappa? mh? come fai? mi fa perché non c'ho la mappa e allora non puoi fare waypoint scusami devi aver installato la plug in della mini mappa ah eh non mi avete detto niente non mi avete detto niente va bene ho distratto il plug in senza dire niente bravi bravi ok io vado giù mi te l'ho detto l'altra volta e darkim si? oh ascolta ma devi decidere dove devi stare in miniera qui lì adesso è senza sei un tormento continuo perchè? mmm poi te lo spiego allora dove la famo? allora io voglio aspettare che fiscari più older si veteranz super piero è con noi ma su super piero è sempre quel piero di prima si si vieni giuuu non è che questa gente ci fa la gara no no dimmi ci leggo a me? si c'è qua del buon carbono se vuoi eh sto minando anche il ferro veteran tu quindi c'hai i miei mattoni? si io ho qua un po' di roba allora io inizio a costruire la casa in mattoni appena smette di piovere ok ma no potrei iniziare anche adesso in realtà eccolo ecco è uno zombie no 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 sarà andato avanti a manetta c'è posto di piano piano minare no tutto va avanti a manetta sono cadutino ma scusa ma poi perchè tu entri per primo nelle nostre miniere io questo ancora non l'ho capito e perchè ti scavo? ma dobbiamo spostarci in un altro posto ancora per entrare da solo nella nostra miniera ma io non sono nella tua miniera si che sei nella nostra miniera perchè? eh vabbè non fa finta di niente va bene ti ho chiesto per piacere di farmi l'allevamento di mucche e non le faccio ma piove? ah lo faccio io va bene ma scusa ma vuoi da mangiare? c'ho uno stack di bistecche non lo sgabuzzina no no voglio uno stack di bistecche voglio farmi le cose da solo ah ho smesso di piovere finalmente voglio farmi le cose da solo oh quanto ti lamenti uffa te sei troppo abituato a fare il power player a me non piace uffa voglio farmi le cose piano piano da solo voglio fare il mio allevamento la mia carne il mio grano eh se non lo fa da solo ok ok veteran faccio l'allevamento di mucche per l'allevamento io ti lascio giù i tuoi io invece faccio il campo il nostro amico qua è inaffidabile io faccio il campo guarda che bello ti lascio cosa che stai mettendo? la staccionata hai messo è il muro di cobblast allora credente ho messo i bricks dentro nel grazie dentro qua io vado da qualche parte a fare il campo di grano ve lo faccio benissimo io qua faccio un piccolo allevamento io direi la casa la farei su questa piana no? si e qua dove c'è il baule ma mica ti vedo io non so dove sei e sono praticamente da uno dei due lati del laghetto ah io ti scavo un po' di cobblaston ah ok così facciamo i muretti di mattoni ti va bene? io invece faccio il campo come hai detto e lo faccio qua ciao bel montone capi? si mi dai una risposta? eh ma do ancora HP dove mettere la casa? poi ognuno avrà la sua eh PHP ah non fai un condominio? PHP giusto si può fare un condominio più piani ah beh si ma questa è un'idea abbia tutto lo spazio osservare intere norme va bene allora io devo fare la casetta con i mattoncini è presente quella che piace a me? mhm ne? darkimo? la clay si i mattoncini che c'ha già lui c'ha già il buon veterano sono dentro al baule benissimo ma quindi condividiamo le risorse o no? si ok eh ma per me a me non piace poi se uno gioca a 165 ore e arrivi e c'è tutto tanto io non gioco l'unica cosa che non mi piace è tutto l'altro ah vabbè con me vai con te sfondi un ciccetto aperto eh tanto lo sai che non sto giocando solo un ciccetto quindi va bene va bene va bene allora io faccio qua qua c'è la miniera quindi la miniera andrà sotto qua sopra ci facciamo il campetto di virano vieni mhm prima devo fare c'avete del ferro? eeeh l'ho messo nello scrigno nella miniera dall'altro lato o un secchio che devo portare l'acqua no a parte che l'acqua la porto da lì ma sì che se ne... ciccettoso mhm? ciccettoso più se iniziamo a mettere qualcosa dai su benissimo ah poi hai visto che qua con sto... cavoli non c'è il grano che fail cosa? uffa non andare a prendere il grano nel mio altro scrigno hai notato che fa il backup ogni un quarto d'ora? cosa? no che fa save world ah no no l'ho visto è comodo e sta mica cosa qua sotto cos'è? cosa? sta facendo una miniera il Darkim io ho fatto un buco lì così lui sta facendo il minerazzo io sto scavando giù in basso ah ragazzi prendiamo il grano e andiamo a catturare le mucchette si ma non è possibile è già buio ragazzi ma l'avete visto fuori? è già buio si vabbè fuori da Minecraft eh si non dentro e come un pirla guardavo il cielo io Minecraft però che fail veramente ok ok poi di qua 1 2 3 4 dai andiamo a trovare Notch Robin America ti vedrò eh no è mica non è mica europeo il cicetone non è la questa fosse un tizio europeo eh questa fosse europea eh ma il cicetone non si è trasferito in America? ah non lo so è l'autore di questo gioco no no si è rotta mi si è rotta l'attrezzo non è bello dire così no ah i bastoncini benissimo iniziamo per le prime mucche qua io ho i bastoncini posso fare vai prima mucche prego ah ma tu lo sai che ho il piccone di diamante Robby ok il piccone di diamante piccone? mucche di diamante no? ho il piccone di diamante anche piccone di diamante bene ragazzi abbiamo già 4 mucche excellent l'allevamento di mucchettone però delle barche e la pecorina qua adesso le diamo anche le barche cioè ragazzi andate tutti nel video di di veteranus e scriveteli cotoletta porca ah ma ogni volta io ho detto scrivere l'assagna alla bolognese nella tua no stai zitto va che me l'ho scritto davvero è giusto mi sono corretto scusa uno chiede agente di richiesta ottiene risposta entra mucca entra entra benissimo 4 mucche e dove le fa entrare? nel recinto ok il nostro allevamento di mucca è iniziato adesso faccio le pecore ma le fa le separate le bestie? si si le faccio le separate così queste mucche in giro le ammattano una cosa che ti prego falla fondamentale falla lontano dalla casa si si è abbastanza lontano c'è una pecorina qua lo vedete? iron 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 mmm non vedete che è abbastanza lontano la casa dall'altra parte del fiumiciatolo eh fail faccio il forno abbiamo appieno vitellino che tenerello che tenerello ah troppa roba qua così vediamo sta spada beh io raccoglio clay ah io devo fare del ferro qualcuno c'ha il secchio? ce l'ho io d'acqua però sto andando giù mmm faccio solo col ferro? eeeh guarda io ho 9 pezzi di ferro da cuocere ho anche il carbone ho anche la goblet ho tutto anch'io carbone e vieni qua a prendertelo giù sotto lo faccio solamente col ferro il secchio no? vabbè di certo non lo fai con la terra sto dietro di te eeeh tieni tutto quel picconazzo di... vai grazie grazie vado a fare il ferro è tutto bucato qui ragazzi cioè? che senso? i crepacci? ovunque c'è un buco con delle miniere ovunque ti giri eeeh guarda il buco che ho fatto io allora dov'è il ferrazzo? qua e qua eeeh dai dai su quanti ne servono di... di pezzi? uno due tre quattro cinque? noo che fail avevo 18 lingotti d'oro già è dentro d'oro? sì scusa di... che lusso di ferro no ma ragazzi sto sbagliando come si fa il secchio? devi fare una v di vendetta tre in posizione di v ma pensa te ok vabbè vado a raccogliere il carbone ragazzi io non posso vedere il carbone resistere carbone resistere? non posso vedere il carbone senza raccogliere insomma ok invece sto facendo l'irrigazione guarda che roba ma qui si va giù all'infinito pazzesco pazzesco è tutto un buco sto posto il traforo del monte bianco vabbè guarda che buco ho fatto io eh non lo vedo ma immagino sapendo che signore esageratone che sei eh oh sono a livello 32 e ho fatto una mega scala e che periodo? quant'acqua ci devo mettere per il regale? oh allora basta che ci metti un po' d'acqua a quattro posti di stanza io metto a manetta uno due tre quattro sui quattro lati ma dove va sto questo qua? non mi piace vederlo basso siamo pieni di gallerie ragazzi pieni di gallerie è tutta sta terra? oh così bello alto va bene quindi qua sta crescendo direi che è sufficiente io direi che con l'allevamento di vacche dobbiamo interrompere e passare la prossima puntata va bene dai prossimo episodio ci vediamo nel prossimo episodio leveremo anche patate le carotine si fa notte ma ragazzi si fa notte e nessuno ha pensato di mettere le torce e tanto sono in caverna e anche di mettere tante come si chiama quella roba lì insomma ci siamo capiti no? i letti noi dobbiamo dormire qui sennò siamo rovinati non so se mi spiego giusto ragazzi dai allora la prossima puntata ci pensiamo bene alla prossima puntata ciao a tutti ciao